Prestigioso incarico per Maria Anghileri, direttore operativo di Eusider. L'imprenditrice lecchese è stata nominata vicepresidente nazionale del gruppo giovani di Confindustria. Un'opportunità di crescita per tutto il nostro territorio. Inizio questo nuovo percorso con entusiasmo e senso di responsabilità. Stiamo vivendo un momento molto delicato per le nostre imprese, un momento mai vissuto prima, necessario al massimo impegno anche di noi giovani imprenditori. In particolare come vicepresidente mi occuperò di cultura d'impresa e politiche industriali. Ho sempre pensato che alla base di un'impresa di successo ci sia la preparazione. Viviamo in un mondo sempre più complesso e globalizzato. È fondamentale la competenza per poterla affrontare con la giusta determinazione. Quale crede sarà il valore aggiunto del suo ruolo per il territorio lecchese, in particolare per tutto il comparto metalmeccanico? Le radici di Eusider, l'impresa che rappresento, sono quelle di un'azienda manifatturiera. Da quattro generazioni trasformiamo acciaio. Il mio obiettivo è quindi quello di rappresentare al meglio le esigenze e le istanze delle imprese manifatturiere che sono un asset strategico per il nostro paese. Non dimentichiamoci che l'Italia è la seconda potenza manifatturiera d'Europa e dobbiamo ambire a rimanere tali.